Le Olimpiadi, quelle vere, si svolgeranno a Parigi tra luglio e agosto, eppure alle prime Olimpiadi del primo comprensivo di Francavilla Fontana non sembra mancare nulla. La cerimonia è colorata, sentita, con le squadre divise per colori ed emozioni, con gli atleti e i piccoli alfieri che sventolano bandiere ed emozioni. Se l'obiettivo era quello di recuperare lo spirito dell'Olimpiade, ricordando a bimbi e bimbe l'importanza dello sport nel loro percorso di crescita e formazione, beh, l'obiettivo può dirsi pienamente riuscito, proprio come il corteo che dalla scuola Aldo Moro si è snodato fino al cortile del plesso Falcone. Perché prima Olimpiadi? Perché riteniamo che lo sport è quella disciplina che può aiutare i bambini a imparare le regole della vita, del sapersi comportare, ma anche del sacrificio che si deve mettere per ottenere qualcosa. Rispetto delle regole lo sport racchiude pure educazione civica, che è il nostro principio importante della scuola primaria. Risuonano le note del lino di Mamedi per la prima Olimpiade e per quei cerchi colorati che raccontano lo sport e pure la vita.